Bene cari amici, chiamate il numero che vedete in sovraimpressione e affrettatevi perché sono rimasti solo gli ultimi 5 di questa splendida unità immobiliare. Non perdete l'occasione e venite a trovarci, un saluto cordiale da Raffaele South Gardain Desenzano. La South Gardain SRL, operatore immobiliare, ha presentato il nuovo complesso residenziale La Piana delle Ginestre, località Desenzano del Garda. Buonasera, santo subito. Questa è l'esclamazione che milioni di persone radunatesi per i funerali di Papa Voitila a Piazza San Pietro hanno levato al cielo chiedendo l'immediato innalzamento agli altari di Giovanni Paolo II. Ora noi sappiamo che il nuovo Papa Benedetto XVI ha promesso che verranno accorciati i tempi, non avviene quasi mai solo il Papa può decidere un procedimento di tale genere per non la santificazione ancora ma la beatificazione di Giovanni Paolo II. Come avete capito questa sera parleremo di Papi, ma parleremo anche di storia della Chiesa, parleremo di storia dei Papi, andando a cercare tutti quei retroscena, quelle curiosità, quei dietro le quinte che solitamente non vengono raccontati. E tra l'altro Giovanni Paolo II ha ottime probabilità per essere beatificato quanto prima perché da tutto il mondo stanno arrivando segnalazioni di miracoli, di miracoli che lui ha operato in vita. Ad esempio il caso più eclatante che è finito sulla stampa in questi giorni riguarda questo sacerdote, un sacerdote napoletano di 37 anni che afferma di essere guarito da un tumore grazie alle preghiere di Papa Vojtila. Non solo, un veggente, uno dei veggenti di Medjugorje, Ivan Dragicevic, ha raccontato di aver avuto poche ore dopo la morte del Papa, la visione della Madonna a Boston dove lui si trovava e dice di aver visto accanto alla Madonna Giovanni Paolo II. Allora che cosa dimostra tutto questo? dimostra che oltre alle grandissime opere politiche e sociali che questo Papa ha compiuto Giovanni Paolo II ha saputo smuovere qualcosa nelle persone. E allora vediamo nel primo servizio innanzitutto che cos'è il conclave, vale a dire quella forma che permette l'elezione dei Papi. Vediamo il servizio. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. E' con questa frase di Gesù Cristo che sono nati la chiesa e il papato. Il primo Papa della storia è stato San Pietro. Da allora nessun altro Papa ha mai osato riprendere quel nome. Il suo è stato il pontificato più lungo in assoluto. Prima di Giovanni Paolo II, un altro pontefice è il primato della durata, Pio IX, il Papa del Risorgimento Italiano. Prima riformista e poi antiliberale, nonché difensore dell'infallibilità papale. L'elezione del Papa avviene per mezzo del conclave. Si tratta probabilmente dell'elezione più antica del mondo, con rituali apparentemente rigidi, ma che si sono modificati parecchio nel corso del tempo. Conclave viene dal latino cum clave, in pratica chiusi a chiave. I cardinali elettori erano posti in questa situazione sia per non subire condizionamenti esterni, sia perché si sbrigassero a scegliere il successore di Pietro. I primi papi della storia venivano eletti in modo piuttosto informale. Come un semplice vescovo, quello di Roma era nominato dal clero e dai fedeli della sua diocesi, di concorso con i vescovi della diocesi vicine. Fu l'editto di Costantino nel 313 a ingarbugliare le cose. Infatti, per tutto il Medioevo e oltre, la nomina e la revoca dei papi fu spesso appannaggio dell'imperatore di turno. Prima di essere soddisfatto, Enrico III ne nominò addirittura quattro. Così, per tutelarsi da queste ingerenze, spesso i papi adottarono la prassi di nominare il proprio successore. La scelta della clausura totale per preservarsi dalle influenze esterne fu ideata da Gregorio X nel 1274. Le regole del conclave non sono immutabili. Il primo a cambiarle fu Leone IX, papa dal 1048 al 1054. Il suo vero nome era Brunone dei Conti di Dagsburg, cugino dell'imperatore di Germania Corrado II e Salico. Nonostante questa parentela, stabilì che il papa fosse espressione solo del clero del popolo romano. Niccolò II nel 1059 emanò il decreto in nomine domini, stabilendo che il pontefice fosse eletto da un numero ristretto di vescovi cardinalis, da latino Cardo Cardini, erede e continuatore del Collegio degli Apostoli. Alla base della scelta ci fu la definitiva rottura con la Chiesa d'Oriente e la necessità di riformare la dottrina e le pratiche della Chiesa romana. Alessandro III fissò il quorum di due terzi per l'elezione del nuovo pontefice nel 1179. Nel 1274 Gregorio X emanò un'ordinanza che definiva le modalità di svolgimento del conclave. Tutti i cardinali avrebbero dovuto risiedere, con non più di un domestico ciascuno, nel locale in cui si svolgevano le votazioni, che avrebbe dovuto essere chiuso. Nel 900 Pio X ha eliminato l'utilizzo delle schede, pensando che potessero implicare un controllo eccessivo sul voto dei prelati. E Paolo VI ha escluso dal voto in conclave e dalla possibilità di essere eletti i cardinali con più di 80 anni. Giovanni Paolo II ha eliminato due forme di elezione tradizionale, per ispirazione e per acclamazione. Per scegliere il nuovo Papa diventa obbligatoria la votazione. Inoltre, Papa Voitila ha fissato la Cappella Sistina come luogo del conclave. Papa Voitila, presto, beato. Bene, di Papa Voitila e della storia dei papi, questa sera parliamo con una serie di ospiti molto importanti. Abbiamo qui Don Franco Antonio Bernasconi, che è stato il segretario del Cardinal Colombo. Poi abbiamo il dottor Piero Mantero, che è un editore, dirige la rivista Il segno del sovrannaturale, e tra l'altro ha pubblicato moltissimi libri di spiritualità e storie di mistici e santi. E poi uno scrittore giornalista, psicologo, Marino Parodi, che scrive per la rivista Yourself, e che, fra le altre cose, potrà anche darci, quindi, quello che è il parere dello psicologo nei confronti della religione. C'è un suo articolo molto bello nel numero di Yourself in edicola in questi giorni, quindi avremo un modo di approfondire esattamente queste tematiche. Ed è proprio dal dottor Parodi che partiamo. Allora, dottor Parodi, come psicologo, qual è stata l'importanza di Papa Voitila e l'impatto che ha avuto questo straordinario personaggio sulla società moderna? Enorme, grandissima. Direi che forse è stato l'ultimo grande del secolo ventesimo. Per grandi intendiamo personaggi che nel campo, ovviamente, della spiritualità, ma anche della scienza, della cultura, abbiano segnato la storia. E sicuramente è stato il caso di Giovanni Paolo II. Volendo sintetizzare le ragioni, possiamo dire che innanzitutto è stato un personaggio che ha insegnato ad amare. La straordinaria popolarità che questo pontefice ha saputo guadagnarsi, soprattutto fra i giovani, ma non solo fra i giovani, e fra le popolazioni di ogni religione, di ogni razza, è molto significativa. Inoltre è stato il pontefice che ha costruito un grande ponte fra le religioni. Per cui se oggi effettivamente i rapporti fra cristiani di varie confezioni, fra musulmani e cristiani, fra buddisti, cristiani e musulmani, o addirittura fra coloro che non si riconoscono in nessuna religione, e i cristiani, sono nettamente migliorati sicuramente a merito suo. E poi aggiungerei anche che ha avuto l'enorme capacità, se vogliamo incoraggiato anche da circostanze storiche favorevoli, principalmente perché ormai le illusioni, le ideologie materialiste, quindi tutti, diciamo, coloro che proponevano religioni alternative, a cominciare dal materialismo, sono trovati completamente spiazzati, in quanto queste pseudo-religioni sono miseramente crollate. Ecco che allora Giovanni Paolo II ha saputo riportare la religione in genere, e il cristianesimo in particolare, alla ribalta della cronaca, ma non in essenza superficiale, bensì ha saputo riproporle all'attenzione delle menti e del cuore di tutti. Pensiamo soltanto che, per dire una e una, mi ha colpito molto un'intervista di recente, no, a Bertinotti, nel quale spiegava come la religione e la spiritualità vadano assolutamente al di là delle logiche di destra e di sinistra. Pensiamo a quello che sarebbe successo 25 anni fa, o 26, all'epoca del trapasso di Paolo VI. Ma quando mai un politico, tra l'altro, che erede di una tradizione che è tutt'altro che favorevole alla Chiesa e al cristianesimo, sarebbe stato capace di un'analisi così raffinata? Questo perché il Papa, Giovanni Paolo II, è riuscito a farsi capire, è riuscito a fare veramente breccia nel cuore e nella mente delle popolazioni, e ha ridato una grande dignità alla Chiesa. E tra l'altro, allora, prendo spunto anch'io per alcune precisazioni, perché sia su Papa Voitila che su Papa Ratzinger sono state scritte diverse imprecisioni. Per esempio, alcuni giorni fa, andati in onda un film sulla storia di Papa Voitila, che lasciava quasi intendere che il giovane Voitila si sarebbe fatto prete, perché quasi per fuggire dal nazismo, per rifugiarsi, quindi usando la tonaca, e scappare alle persecuzioni dei nazisti. In realtà non è vero, perché è sufficiente leggere la sua biografia per scoprire che già quando lui aveva otto anni, la madre, che era una fervente cattolica, premeva perché lui prendesse l'abito talare, quindi la sua è stata una vocazione vera. Ora, curiosamente, un'accusa, per certi versi simile, anche se all'opposto, è stata rivolta a Papa Ratzinger, è stato scritto che lui durante la guerra vestiva la divisa nazista, ma all'epoca tutti i tedeschi vestivano la divisa nazista. Per 18 anni, quando finì la Seconda Guerra Mondiale. Anzi, quello che non viene detto è che suo padre era un poliziotto ed è stato perseguitato dai nazisti, proprio perché aveva aiutato gli ebrei a scappare, non li aveva denunciati, e la famiglia Ratzinger è stata costretta a quel punto ad emigrare in un'altra parte della Germania. Quindi, tante volte si dicono cose senza essere al corrente dei fatti. E partendo da questo, proprio da Papa Ratzinger, Piero Mantero, Papa Ratzinger, che è stato il segretario di quello che una volta veniva chiamato il Santo Ufficio, la Congregazione per la Dottrina della Fede, la sua elezione è un segno di apertura o di chiusura della Chiesa? Grazie a tutti. Grazie a tutti.